Se all'inizio dell'estate Assoturismo aveva stimato un aumento del 7% del turismo estivo, l'inflazione pesa sulle vacanze del bel paese ed anche Fano, con le sue spiagge e le attrattive storiche e culturali, evidenzia un calo dell'affluenza turistica sia italiana che straniera. Poche le prenotazioni sul lungo periodo, chi può permetterselo si gode il mare per una settimana, ma la maggior parte dei turisti preferisce le prenotazioni last minute anche solo per il weekend. Da Milano in vacanza a Fano, com'è che avete scelto Fano? Perché quattro anni fa siamo stati qua a Fano e ci è piaciuto e siamo tornati. E di Fano che cosa vi piace di più? Mangiare. Dove andate? In albergo o in appartamento? C'è un bungalow abbiamo. Avete preso un bungalow? Quante famiglie, di quante persone? Sì. Posso chiedervi più o meno quanto spendete? 1.500 euro. Per sei persone. È un prezzo giusto o...? È troppo, è troppo. Tre anni fa abbiamo pagato 1.000 euro. Siamo in vacanza con degli amici perché facciamo 30 anni quest'anno, quindi abbiamo prenotato un Airbnb e siamo qua questo weekend. Posso chiederti dove alloggi? In un Airbnb. Il prezzo è giusto? Sì, eravamo soddisfatti. Penso sia 40 euro a notte a testa o una cosa del genere. Come sono i prezzi? Eh, i prezzi sono, diciamo, un pochino alti. Dove dormirete voi? In un villaggio, in un villaggio, in un camping villaggio e i prezzi, diciamo, il nostro sono abbastanza contenuti, però prima di scegliere questo ne abbiamo visti altri, sono un po' alti. Da Verona a Fano in vacanza, com'è questa scelta di venire a Fano? Perché a Fano ho trovato l'equilibrio, Fano è tranquillo, Fano si sta bene, si mangia benissimo. Beh, per un weekend, in questo caso è un compleanno, quindi abbiamo dei pranzi, delle cene prenotate, diciamo che sui 300 euro almeno partono sicuramente. Non è stato semplice trovare un hotel libero, ha dei prezzi, diciamo, anche abbastanza familiari, però alla fine con 300 euro pranzi e cene comprese riusciamo a cavalci. Quelle poche disponibilità che ho trovato, perché ho prenotato sinceramente last minute, erano tutte allineate, bene o male, sulla stessa fascia prezzo, più o meno sulle 130-150 notte. Se gli albergatori si dichiarano comunque soddisfatti, un po' meno lo sono i gestori degli stabilimenti balneari, che lamentano un evidente calo sia del noleggio degli ombrelloni che della ristorazione. La stagione va bene, è stata un po' fiaccata dall'alluvione all'inizio, che è stata molto pubblicizzata in tv anche all'estero, e poi dalla grande ondata di caldo. Però fortunatamente le persone scelgono sempre di tornare a Fano dove si trovano bene, e magari anche da noi, abbiamo i nostri clienti italiani ma anche stranieri, e quindi non possiamo sostanzialmente lamentarci. C'è stato più da lavorare nei weekend, come si succede in bassa stagione, però l'alta stagione è adesso alle porte, vedremo. Io ho un calo sensibile, non l'ho registrato. È cambiato il turismo, a parte il maltempo che sicuramente non ha aiutato l'affluenza, perché vedo che anche dagli hotel le prenotazioni arrivano per pochi giorni, mentre gli anni scorsi diciamo che la gente si tratteneva almeno una settimana, invece adesso tre giorni, quattro giorni, tutto veloce, mordi e fuggi. Effettivamente lavoriamo il sabato e la domenica e durante la settimana veramente si affitta poco e niente. La gente spende meno, molto meno. L'ora di pranzo il bar è vuoto, la gente mangia a casa, diciamo che il lavoro è cambiato, è diminuito e noi ci adeguiamo alle situazioni. Ma siamo solo alle porte di un agosto ancora da vivere e la città della fortuna, con un'amministrazione presente e propositiva sull'accoglienza turistica, è pronta all'ospitalità del mese di agosto, con la speranza che la fine dell'estate possa chiudersi in positivo. In questi giorni sono usciti dei dati di Demoscopica dove in luogo dell'inflazione generale che è intorno al 5%, l'aumento dell'inflazione, l'inflazione turistica è intorno all'8,5%, quindi un differenziale di tre punti percentuali che in visione di una maggiore spesa turistica alcune persone che vorrebbero scegliere le nostre località hanno la tendenza a sceglierne altre che obiettivamente tendono a costare meno. Quindi una situazione che purtroppo crea problemi a tutto il settore turistico, ma per quanto riguarda noi come amministrazione comunale dobbiamo continuare a credere in ciò che stiamo facendo. La nostra città, la nostra destinazione merita di far crescere il turismo per tutti gli investimenti che la città sta facendo, quelli riguardanti la nostra storia, la struttura della città, la nostra è una città bella e merita di essere vissuta.